Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di riso 300 grammi di sedano bianco 200 grammi di pomodori pelati Mezza cipolla Vino bianco secco 1 litro e mezzo di brodo di dado Parmigiano Olio Burro sale e pepe Preparazione Soffriggere il sedano La cipolla e i pomodori pelati a pezzetti in un cucchiaio d'olio Unire mezzo litro di brodo caldo Salare e cuocere per 20 minuti Unire il riso Spruzzare con mezzo bicchiere di vino e farlo evaporare Portare il riso a cottura aggiungendo poco alla volta il brodo Spento il fuoco incorporare 40 grammi di burro e 4 cucchiai di parmigiano grattugiato Il piatto è pronto Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!